Ciao, vabbè, guarda, vi troveri! E' bello! No! E' che fa sì! E' bello! Accazzate tutto il mese e tu ne guardi tutte qua! Io odio il cartaceo! Cazzo di turnografico! Cazzo di turnografico! Madonna mia! Ma che cazzo! Vado a iniziare a indicare il pasta, come insegna il buon Maffi? Non si dà, non si ne ha, non si ha Maffi, due punti Non si ha, non si è, non si ha Maffi 2003 Fermo, com'è nata la cosa dei personaggi quali Capretti e Pistrello? Sono un coglione Fa schifo Rakdos, fa schifo, ve lo giuro Ingiocabile Comunque, sapete cosa mi manca a me per essere veramente completo? Il freebooter Io non ho il freebooter Che su YouTube Mi freeboota Praticamente Le clip Allora, io vi dico Se voi volete freebootare momenti canzi del canale, roba del genere, è tutto vostro Io non vi farò niente, non vi chiederò mai una lira, non vi farò mai uno strike, nulla Poi ovviamente io metto i video miei nel canale, gli highlight dei mazzi che voglio mettere io una volta al giorno Ma se qualcuno di voi vuole freebootarmi e letteralmente guadagnare sulla mia faccia Vostro Tutto vostro Il botogengo Abidilella Stitotofone Che è molto forte, stitotofone Mordecai le mod luogotenente Molto bello Cose Oh, 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 oh Va no black che regge maghi Sì, solitamente se sculi vedi tutto, tutti i remove al bo Oh, 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 oh Vi encanta la nìfere Do gonna è misè Mezzanotte C'era una volta un pastore con le sue pecorelle Passava casualmente davanti al convento di padre Unzunzu Padre Unzunzu li chiese Ciao pastore Ti vedo in forma. Grazie, anche lei, padre Onzunzu. Cosa? Ci sono... Vedo... Noto qualcosa. Cosa, signor padre Onzunzu? In questo momento sei molto affascinante e potente. Così, eretto, vettuto, con le tue pecore. Grazie, ma potresti esserlo molto di più. Come, padre Onzunzu? Prova a portare in avanti la mandibola e a far vedere la possanza del tuo mento. Allora il pastore si tolse il suo travestimento e si rivelò come Bina 94. Vogliono essere poli. Tutti vogliono conoscere poli. E ti segue. Tutti polano. Nel polando, nel polling. Un giorno addirittura, vengo a sapere, che un uragano potentissimo, una tempesta di maltempo, un'ondata di maltempo come non se ne vedevano dal 74, è stata rinominata... Esatto, ragazzi. Avete immaginato bene. È stata rinominata proprio poli. E allora lì ho capito. Lì ho capito di aver raggiunto il potere assoluto, la fama incontrastata, i soldi non sono niente, quando il tuo nome è il nome di un uragano. Poli. Al cinema. Questo è il trailer. Blu come le mie palle, le palle, le palle, le palle, la pil, le palle, la pil, le palle, le palle, le palle, le palle, le palle, le palle, la pil, le palle. Dimo come mangia che la casa perché c'è la beee Sono un surgo Fa ridere Grazie a tutti Grazie a tutti